Salve sono Urbano della San Moreno Volkswagen Audi di Fucecchio oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture usate di questa bella Mini Countryman ed è attenzione un 1.6 turbodiesel 90 cavalli dell'anno 2012 unico proprietario e col cambio manuale e attenzione è una vettura che può essere guidata dai ragazzi e ragazze neopatentati quindi una bella vettura spaziosa e moderna per incominciare a guidare e adesso andiamo a vedere anche lo stato d'uso della vettura della carrozzeria intanto esterna come potete vedere non ci sono graffi non ci sono ammaccature veramente molto bella da vedere di questo bel grigio argento sempre brillante infatti sia nella fiancata destra che nella fiancata sinistra guardate qua è veramente eccezionale e anche le cromature sono veramente sempre molto brillanti i fari guardate qua di solito si ingialliscano quelli in plastica questa è veramente molto molto bella adesso l'interno vettura partendo dal nostro cruscotto centrale anteriore bellissimo anche questo da vedere con tutte le plastiche al loro posto non ci sono graffi non ci sono usure quindi ancora molto molto bello anche da vedere impostazione naturalmente moderna da mini a livello di accessoristica abbiamo il suo cambio manuale a 6 marce start e stop 4 vetri elettrici climatizzatore automatico naturalmente conta chilometri con tutto il la funzionamento dell'autoradio volantino multifunzione con il cruise control e gli interruttori sempre per lo stereo e passando al chilometraggio solamente 108.900 chilometri teniamo anche di conto una cosa che non vi avevo detto questa è una vettura che può essere guidata dai ragazzi e ragazze neopatentate quindi un'ottima vettura bella e moderna per incominciare a guidare e anche la tappezzeria è veramente molto bella come potete vedere non ci sono strappi non ci sono usure non ci sono molto importante buchi di sigarette perché il precedente proprietario non fumava quindi ripeto è una tappezzeria bellissima da vedere e profumata profumata anche perché come nostro solito è stata igienizzata lavata igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica e infatti dopo questa lavorazione l'interno quindi l'abitacolo quindi la tappezzeria risulta veramente bella splendente e profumata quindi un'accoglienza all'interno della nostra auto veramente eccellente e anche il vano bagagliaio risulta bello pulito spazioso pulito anche perché la mochette del bagagliaio è stata lavata igienizzata a vapore come l'abitacolo anteriore e anche il vano motore è molto bello da vedere e accogliente abbiamo tutti i suoi componenti al loro posto a partire da dalle plastiche sopra tubi in gomma spinette elettriche tutto al loro posto anche perché le nostre vetture usate prima di essere messe in vendita vengono sottoposte ad un accurato controllo presso il nostro service interno come seguendo una checklist multicontrollo interna e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia completamente funzionante e naturalmente affidabile e adesso salite in macchina insieme a me e andiamo a fare anche un giro di prova su strada sto montando in macchina la prima cosa che viene da notare proprio l'accoglienza la pulizia del nostro abitacolo bellissimo e a cosa serve il giro di prova serve a capire il funzionamento generale della nostra auto sia su strada che in tutti i suoi componenti ok prima cosa pedale della frizione morbido preciso nello stacco quindi ottimo funzionamento e anche il cambio naturalmente ottimo negli innesti e quindi non ci sono giochi e quindi ottimo funzionamento anche di quello mentre l'assetto di guida l'assetto stradale e anche questo è buono perché la vettura va veramente dritta su strada e naturalmente non sentiamo vibrazioni mentre la scatola di guida che in questo incrocio la dobbiamo girare parecchio è precisa leggera e non ci sono giochi quindi guidabilità generale ottima anche le sospensioni sono ottime perché in questa strada con le buche sentiamo sì il loro lavoro ma all'interno abitacolo risulta sempre veramente silenzioso tutti i suoi componenti sono stati già controllati quindi la vettura è pronta per essere acquistata e guidata quindi ragazzi e ragazze neopatentate se volete una vetturetta bellina e moderna affrettatevi possiamo poi presentarvela anche in anteprima prendendo un appuntamento telefonico con whatsapp e video spiegarvi totalmente la nostra vettura e anche il motore comunque risulta silenzioso è comunque brillante perché con il cambio a 6 marce troviamo sempre il suo rapporto giusto i consumi consumi sono veramente ottimi perché torno a dire sempre con il cambio a 6 marce la facciamo il motore lo facciamo girare sempre con il regime dei giri giusti ecco dopo queste informazioni torniamo al nostro punto di partenza per le ultime informazioni a questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto troverete naturalmente anche il prezzo seguiteci poi su social facebook instagram al nostro indirizzo sani fucecchio un grazie per l'attenzione vi aspettiamo presso il nostro punto vendita di fucecchio oppure telefonata ai nostri numeri vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande un grazie ancora e come diciamo sempre alla prossima vettura grazie